Nata Roma, cresciuta musicalmente negli Stati Uniti, poi una fulgurazione per il Brasile. Quanto influenza questo nomadismo artistico sulla tua produzione? La base della mia produzione, lo spostarsi, incontrare delle persone diverse, interessanti, il non accomodarsi mai, cercare sempre una prima volta in ogni nuovo disco. Per me è la cosa più importante, quello che mi tiene in vita, se no mi annoio, non mi posso annoiare. Hai scritto canzoni con Bacharach, hai diventato con giganti come Agiaro, come Cico Guarche, come sono nate queste collaborazioni? Dunque, sono nate alcune per caso, altre per suggerimento di amici che mi accompagnavano in un dato momento, per esempio, durante la produzione di un disco, io che facevo proprio questo tributo alla canzone italiana, ero in Brasile in quel periodo e mi chiedevo, ma io vorrei tanto, vorrei tanto celebrarla ancora di più facendo cantare in italiano dei grandi, che hanno un po' a che fare con l'Italia. Quindi ho pensato immediatamente a chi era lì, quindi Giberto Gil, che peraltro ha scelto lui, io che non vivo senza te, ricordandomi che nel 65 quando vinse Sanremo Donaggio, lui si ascoltava da Bahia la versione originale. E poi Cico, vabbè, matematica, perché Cico e Sergio Indrigo erano grandi amici, e quindi era come un'equazione perfetta. E devo dire però che il sound di questi arrangiamenti forse li ha convinti, quindi diciamo che non c'è stata nessuna intenzione di discografico o cosa, è nato proprio sempre tutto da qui. C'è qualche artista italiano o internazionale con il quale ti piacerebbe collaborare? Tu? Da dove inizio? Allora, il mio idolo italiano è Paolo Conte, peraltro auguri, credo che sia veramente una persona che è riuscita ad espandere i confini musicali cantando in italiano, e questo è un ottimo traguardo da prefiggersi. Sei un'artista molto seguita, qual è il tuo rapporto anche con i social? Allora, le reti sociali per me si chiamano social networks, sono reti sociali, non devono diventare reti, cioè uno non deve essere schiavo, ma secondo me come mezzo divulgativo è molto importante. Io sono abbastanza attiva, anzi molto attiva, mi piace molto Instagram perché mi dà la possibilità di non dire niente in linguaggio della foto, anche sul Facebook, sulla mia pagina ufficiale spesso, diciamo, posto delle cose. Uno non deve essere troppo autoriferito nei social, può postare cose interessanti, non so, un libro che sta leggendo. Quando divento una cosa stimolante, è bello. A cosa stai lavorando adesso? Sto lavorando al mio prossimo disco, che uscirà presto, quest'anno. Lo sto finendo, quindi devo fare le foto e infatti devo mangiare poco perché vuole essere carina.